Andiamo a scalandrare questo bel bambino che abbiamo davanti a noi. Bene amici, oggi siamo sul Lago Maggiore, sono con Simone Del Zotto, tecnico Suzuki, buongiorno, e ci troviamo davanti a una delle novità del 2022 di Suzuki, ossia il DF115B. Di cosa si tratta? Allora, andiamo a vedere adesso i maggiori cambiamenti. Iniziamo con la calandra, che ha subito una variazione migliore, è stato modificato, sia per l'entrata dell'aria per l'aspirazione, che nel caso in cui dovessero entrare degli schizzi da poppa, ha delle pareti studiate per far defluire l'acqua esternamente, quindi l'acqua non cade sui componenti interni del motore. Ok, adesso andiamo ad aprirlo, andiamo a scalandrare questo bel bambino che abbiamo davanti a noi, che è un motore meccanico, questa versione qui è meccanico e non è elettronica. Andiamo quindi a vedere tutte le componenti che sono state realizzate e cosa è cambiato rispetto alla generazione precedente. Assolutamente sì. Da cosa iniziamo? Ma iniziamo, inizierei con la manutenzione. È stato modificato, è stato aggiunto un bicchierino per raccogliere l'olio che cade dal filtro, smontando il filtro dell'olio ed è stata modificata anche l'astina dove appunto si inserisce in un tubo che appunto è studiato per cambiare l'olio senza tirare sull'imbarcazione, quindi noi sfilando l'astina, andando a mettere una pompa estrazione, possiamo andare a togliere l'olio comodamente. Quindi avendo anche la vaschetta di recupero possiamo anche evitare sversamenti accidentali. Assolutamente. Perfetto. È stato modificato il collettore, prima era da alluminio, e ha una struttura che appunto investe l'iniezione, e quindi aumenta le prestazioni e l'accelerazione. È stato modificato il corpo farfallato e la posizione del TPS, del sensore, posizione della farfalla. È stato modificato il termostato dove c'è appunto il sensore che controlla lo stato del termostato, quindi nel caso in cui il termostato ha dei problemi, noi lo noteremo subito dallo strumento. Perfetto. E questa invece, questa è una componente fondamentale nell'utilizzo quotidiano, perché è qualcosa che noi possiamo avvertire, giusto? Assolutamente sì. Questa è la nuova cassa di risonanza che ci permette appunto di un maggiore comfort in fatto di sound, di suono. Abbatte il rumore, quindi sicuramente c'è un aumento del comfort in navigazione. Andiamo dall'altro lato, dove possiamo notare il Micro Plastic Collector, che è un filtro studiato per raccogliere le microplastiche. viene applicato sull'uscita del termostato, quindi sulla parte dell'acqua di scarico e appunto filtra le microplastiche che passano attraverso l'aspirazione dell'acqua per il raffreddamento e tramite un filtro vengono raccolte le microplastiche. Quindi possiamo dire che stiamo pulendo il mare a tutti gli effetti durante la navigazione. Quindi abbiamo un compito anche dal punto di vista ambientale non indifferente. Il diportista medio deve occuparsi però di svuotare la vaschetta di raccolta? Assolutamente sì, diciamo che dipende ovviamente da dove naviga, è consigliabile verificarlo tramite una semplice operazione che anche il cliente può fare ogni circa 50-100 ore e vi ricordo che se per caso il filtro si dovesse appunto atturare dalle microplastiche c'è un bypass, quindi non c'è nessun problema sul funzionamento del motore. Maggiore, anche maggiori miglioramenti sono stati eseguiti sulla testa, ricordiamo che il rapporto di compressione viene aumentato da 9,7 sulla versione precedente a 10,6 quindi abbiamo una maggiore accelerazione, una maggiore coppia. Sì, questo poi anticipiamo, lo vedremo direttamente in applicazione perché abbiamo provato questo mezzo in navigazione, abbiamo visto le prestazioni, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella degli avvisi perché arriverà il test proprio fatto con Simone qui nelle acque del lago, quindi vedremo come si comporta. È stata rivista anche la parte delle intercappellini del raffreddamento migliorando il flusso dell'acqua. Benissimo, e questa è l'architettura base della nuova serie che si ripete poi sugli altri due motori che sono stati presentati qui che sono il 100C e il 140. E il 140B, assolutamente, confermo. Quindi possiamo trovare esattamente la stessa tecnologia e applicarla agli stessi motori. Quindi, io direi che per ora abbiamo concluso. Grazie mille Simone per la disponibilità. E come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook. Lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre sul mio canale. Grazie mille Simone. Grazie a te Carlo. Grazie a te Carlo.